Vi parlo di Perfect Blue, film che è appena uscito in Blu-ray con più il DVD, questa splendida edizione che vi mostro velocemente perché sennò stiamo qua l'anno, è veramente figa, con il librettino, dentro c'è mi sembra anche il character design, lo studio, si è bellissimo, c'è lo storyboard, ve lo faccio vedere perché spacca, spacca veramente, quando ci sono queste cose, ci sono gli ambienti e anche addirittura mi sembra gli storyboards, il character design, stupendo, se amate questo film ci sono un po' di inquadrature, il film appunto contiene sia l'edizione Blu-ray che il DVD, quindi non potete farvela mancare, con anche degli extra che ieri ho guardato, Allora, Perfect Blue è un film di animazione giapponese, abbastanza noto ormai, del 1997, diretto da Satoshi Kon, che se non erro è anche il regista di Paprika, che era un film che io ho già visto, e che mi era piaciuto molto, infatti ce l'ho tipo in DVD. Questo è il suo debutto invece come regista, e il film è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di, devo leggere, scusate, Yoshikatsu Take, spero di averlo detto bene, perché se no poi sembra Takeuchi, scritto nel 91, e parla di una ragazza idol, che è un concetto abbastanza lontano da noi italiani, europei, però insomma se ti avvicini alla cultura giapponese, anime, manga, poi dopo lo scopri presto, sono queste cantanti pop, che vengono idolatrate, e sono anche delle figure abbastanza pure da quello che racconta anche il film, nel senso che appunto non sono provocatrici, sessuali, come possono essere delle cantanti di altri generi, che magari usano anche, giocano anche con la sessualità, eccetera, sono molto candide, no? E la storia di questa ragazza, Mima, che diciamo è vittima un po' del successo bloccata in questo ruolo di donna oggetto, ci sono molti temi nel film molto interessanti, questo ruolo di donna oggetto innanzitutto perché è sotto il controllo di due manager, un uomo e una donna, che diciamo hanno solo l'interesse di guadagnare dal successo di Mima, Mima decide di interrompere la carriera idol che portava avanti con un gruppo, con altre due ragazze, per diventare un'attrice. L'approccio col cinema però appunto sfocia subito direttamente sulla sessualità, quindi a Mima viene chiesto di fare scene erotiche, foto erotiche, scene di stupro che comunque sono molto forti, ed è un film veramente ricco di sfaccettature. Tra i personaggi importanti e interessanti, appunto, oltre a questi due manager, c'è uno stalker, chiamiamolo, un fan ossessionato dalla figura idol di Mima, quindi non dalla sua nuova carriera ma dalla sua vecchia carriera e soprattutto c'è un doppelganger, un doppio di Mima, una Mima che è legata alla vecchia Mima, quella che era un idol, che la provoca, che la stuzzica, che la fa impazzire, che la insulta, che la tormenta, quindi è una sorta di doppelganger ma anche di schizofrenia interiore di Mima. E è un film che appunto fa vivere una schizofrenia alla protagonista ma anche allo spettatore. Intanto voglio dirvi, confessarvi che non avevo mai visto questo film e lo so che è una... e mi rendo conto solo oggi che è veramente una gravissima mancanza per chi ama il cinema, il cinema horror e il cinema thriller perché veramente è un film che ha tanto da insegnare e sicuramente ha influenzato tantissimi registi dal 97 in poi o almeno così. Dicono in molti ma io solo vedendo questo film ci credo perché è veramente una delle poche situazioni in cui mi sento di dire che siamo di fronte a un capolavoro vero e proprio. È diretto benissimo, ha un montaggio pazzesco, ha delle idee di montaggio che sono rivoluzionari quasi. E il montaggio è tutto fondamentalmente nella regia, è una delle parti più importanti in assoluto. Questo montaggio insieme appunto alla scrittura di una sceneggiatura pazzesca e alla regia non solo manderà in pappa il cervello di Mima che continuerà a passare da situazioni reali a irreali senza accorgersene, senza capire più che cosa è vero, che cosa è falso, ma questo accadrà anche allo spettatore e questo è fantastico. Questo è fantastico perché è uno di quei rari casi in cui non guardi un film sentendotene quasi fuori, sentendoti quasi un osservatore, uno spione, come può essere in tanti casi. Sì, coinvolto da quello che accade, no, qui ti senti dentro, ti senti tu stesso coinvolto nel disorientamento dei personaggi. Ad aiutare questo disorientamento c'è la carriera cinematografica di Mima che appunto grazie a una sceneggiatura brillantissima gioca su quello che è reale e quello che non lo è. Quindi in alcune scene noi crederemo di vedere uno sviluppo di quello che sta accadendo nella realtà e invece è cinema e viceversa. Tutto vive questo binomio meraviglioso tra realtà e illusione. Illusione e finzione. Emblematica una scena, ma secondo me tante scene di queste finzioni emblematiche, la scena dello stupro durante le riprese di un film. Noi vediamo Mima, Serena, che dice sì, non c'è problema, posso fare questa scena, la interpreta in un modo pazzesco, sembra veramente vittima di un'aggressione e nonostante noi sappiamo che è un film, nonostante noi vediamo anche dei momenti in cui appunto gli altri attori si scusano con Mima per magari, perché devono mettergli le mani addosso per fare questa scena, nonostante ciò noi la viviamo male, la viviamo come un vero stupro. Ed è qui in questa scena, e anche in molte altre, però io in questa scena ci vedo proprio questo binomio tra finzione e realtà, cioè quello che sembra vero è falso, quello che sembra falso in fondo è vero. E quindi lei vive anche questa scena come uno stupro in seguito, quando si accorgerà che non la voleva fare. È un film veramente molto toccante, che ha delle animazioni molto belle, ha dei disegni molto belli, non tutto è eccessivamente curato, molti personaggi sono anche solo abbozzati, addirittura alcune scene con la folla, così i character non hanno neanche i tratti facciali, ma questo può essere addirittura, considerando la genialità di questo regista può essere addirittura una scelta per far sentire ancora più isolato il personaggio dal mondo, nonostante sia completamente avvolto dalla fama, è una fama che non la scalda, che non le dà nessuna umanità. Noi ci accorgeremo, e in questo è molto drammatico il film, che Mima è molto triste, è molto sola, e questo renderà tutto drammaticissimo e ci coinvolgerà tanto. È un film che ha bisogno del suo tempo per far capire quanto veramente è speciale. Mi è piaciuta anche molto la scena del fotografo, che fa a Mima delle foto e sembra quasi anch'esso abusarne, prendersi la sua intimità, la sua innocenza, e lei quando posa sembra quasi morta. Ed è incredibile come un cartone animato possa essere così espressivo. Vuol dire che c'è un lavoro veramente, veramente molto importante. È un film molto, molto, molto psicologico. E sono sicuramente i film che colpiscono di più l'immaginario degli spettatori, e soprattutto quando non si aspettano che un film possa essere così psicologico. Quindi un anime, un cartone animato giapponese con delle pop star che cantano. Cioè si presenta all'acqua di rose, si presenta come qualcosa di leggero, in realtà è di una potenza incredibile ed è molto psicologico. Oltre a esserci un twist, è una rivelazione molto, molto importante che dona al film anche una grande quantità di intrattenimento per chi ama i thriller, è soprattutto un film che si basa sulla psicologia. Mima ha un doppelganger che è la sua ombra psicologica. E la sua ombra, o meglio, lei stessa è la sua ombra. È qualcosa che lei non vuole perdonare. Lei non vuole perdonarsi, non vuole... Quindi si tormenta e vive malissimo tutta questa esperienza che oltretutto appunto è condita anche da violenza perché c'è qualcuno che sta uccidendo, un serial killer che sta uccidendo delle donne e prima o poi ci sarà lo scontro con lei. Per me è un film assolutamente incredibile. Trovo molto interessanti anche le parole del regista che ho trovato in giro, di Satoshi Kon, che esordisce parlando del suo film dicendo che lui quando ne parla non si pone come unica lettura di questa pellicola, ipotizzando che la sua lettura del film potrebbe essere sbagliata e che ci siano letture più corrette dell'opera. Questo è un atteggiamento bellissimo di chi ha capito veramente la potenza del cinema e di quanto un film come questo così interiore possa sfuggire dalle mani del regista portandolo a fare delle scelte che neanche lui comprende, quindi che necessitano assolutamente di un lavoro di scavo psicologico per poterle interpretare. Quindi probabilmente il regista intende dire avevo delle idee, ho capito delle cose del mio film ma non sono così certo di essere quello più bravo a poterle spiegare perché è un artista, non è uno psicologo, non è un dottore. Questo film entra nella mia top non so quanti comunque di film imprescindibili se si vuole conoscere il grande cinema veramente un film pazzesco. Uscirà adesso in un video, tiratura limitata, edizione integrale c'è di tutto, c'è di più, accattatevelo. Stupendo!